buongiorno a tutti oggi un video speciale perché ho pensato di fare un regalo speciale a una di voi quella che vincerà non lo so una parte del regalo si trova qui e un'altra la farò vedere un po dopo perché allora per chi è creatrice che piace lavorare con perline o altro il regalo si trova qui e lo farò vedere allora questi sono dei capociano in ceramica questo è un tondo allora vediamo sia un centimetro vi farò vedere anche quanto per avere un'idea di quanto è grande allora questo sarebbe un tondo sarebbe tipo di sette centimetri e mezzo come dicevo sono in ceramica sono ben realizzati sono bellissimi allora uno sarebbe questo il secondo questo poi dopo facciamo così poi dopo c'è questo che c'è il più grande di tutti vedete questo a 9 cm di lunghezza 7 e qualcosa 7 273 quest'altro invece sono dei ovali più piccoli questo è su quasi sei e mezza su cinque vedete quanto sono ben realizzati un altro è questo io questi capociano perché lo dico perché sicuramente qualcuno di voi mi chiederà dove si trovano a comprare io vi dico li ho trovati un negozetto a trani un negozetto dove vendono cose che altri negozi non vendono più non vanno più allora li scarica tutti li vendono come possono io li ho visti ovviamente sono una creatrice era impossibile che non li comprassi per questo dico in altri siti non li ho cercati sì ma non ho mai trovato qualcosa del genere e perché è speciale il mio regalo perché è un po' anche raro se vogliamo dire così no perché non si trovano ovunque o magari sì ma non lo possiamo sapere e allora questo poi c'è questo allora io ho pensato di regalare questo sarebbe un regalo per se creatrice e vuole sia questo per poter realizzare a modo suo creare da zero a modo su una si possono fare si possono fare colane tipo john e tutto quanto poi vi farò vedere la mia idea e per chi per chi non è creatrice che non lavora con le perline o altro e non sa fare fare un gioiello con questi cabochon io regalerò un una cosa già realizzata da me per questo ho pensato potete partecipare sia creatrice che non creatrici ho pensato che è giusto così no poi per chi è creatrice o anche anche se lo è ma non vuole questi cabochon non lavorati per me va bene uguale allora saranno due regali potete vincere in due e per ognuna di voi chi vincerà o lui perché potrebbe essere anche un lui potrà scegliere da questi sette capuchon potrà scegliere due poi me lo direte e chi non è creatrice o vuole una cosa realizzata da me che vi farò vedere vincerà solo una una cosa ok allora voglio dirvi che condizioni non ci sono perché non ci sono perché è chi mi segue ha visto un po dei miei video avete notato sicuramente che io non chiedo mai di iscrivervi al mio canale di mettere piano mi piace niente perché perché io voglio che sia la vostra scelta di fare una cosa e anche a me piace sentirmi dire fai quello fai quello ho deciso così perché io sono così e allora dicevo nessuna condizione se voi volete mettere fa più che piacere che vi vi scrivete o se volete mettere mi piace lo mettete per me o va sempre bene anzi sono felice e se no no cioè non ci sono condizioni per poter vincere questo regalo l'estrazione io l'ho pensato regalo come natale però sicuramente non lo potrò fare proprio giorno di natale ma qualche giorno dopo e adesso vi farò vedere quello che io ho creato con queste caposciano sono meravigliosi sposto un attimo ecco allora faccio vedere cosa ho creato io vi assicuro che sono cose bellissime e ovviamente devono piacere perché non sono cose piccole però sono originali allora guardate per primo vedete con quello tondo cosa realizzato è questa tipo ciondolo ho realizzato anche la catenina con le perline guardate ea embroidery vedete il dorso questa è una incastonatura con le delica un misto di colori mi piaceva così poi dopo un'altra sempre sempre tondo ma è quell'altro modello e questo è sempre ad embroidery questa perché la lavorazione è più complessa più ampia e più più grande vi assicuro che una volta indossati sono proprio bellissimi 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 e dopo c'è questa il colore burgundia con bronzo e oro proprio stupendo anche questa da intassata proprio stupenda le idee ci sono come realizzare queste cabochon si possono realizzare in tanti colori ci stanno bene con tanti altri colori un'altra è questa si sa in colori viola vedete ma proprio tutti stupendo 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 il retro faccio questa questi sono quelli ovali non verticali ma in orizzontale e poi anche come fantasia sicuramente viverà in tutti i modi immaginabili di come utilizzare questi sono un altro questo questo è un po turchese con con bronzo un po di oro questa goccia in corallo bianco e le pietre queste qua è sempre una pietra naturale ma non mi ricordo di cosa come si chiama questo è realizzato in questo modo il vetro e adesso vi farò vedere a e con un'altra questa è ancora da finire perché è stata una richiesta un po particolare di realizzare la devo finire come vedete io la colanina per dire così tendo sempre a realizzare con le perline per dargli il modo in modo originale non mi piace utilizzare tanto le catenine in metallo che preferisco così sono ancora più belle poi adesso mi farò vedere il capo sonni il più grande come si potrebbe realizzare il mio modo è sotto questo anche qui sempre una l'incostrazione con delle delica delica sono migliori secondo me per incostruire cose tonde o quello che stiamo dicendo lino realizzato sempre con le perline e la catenina così sempre anche questo indossato molto molto bello e non è neanche tanto pesante poi una cosa bella non è che non dobbiamo portare per giorni non semmai una serata speciale o altro ce la facciamo è andato bellissimo e adesso vi farò vedere anche a sa fai come si come le ho realizzati io ho realizzato a queste vedete e a sa fai per chi lavora solo sottacce in un altro vi posso dare queste teano volendo secondo me anche chi lavora con wire con i fini metallici sicuramente si può creare anche così con questa tecnica un altro sempre assolutamente questo una catenina sempre con perle un po pietre naturali e poi ho un altro che vi posso far vedere sempre sempre sottage questa che ne dite io penso che che sono bellissima ecco per me sono tutte bellissime allora questo è tutto vi ho presentato anche alcune delle mie creazioni tante altre non ce l'ho più ma non è importante comunque allora mi fa veri dirò un'altra volta un regalo per chi è che creatrice può scegliere due dei cabochon che ho fatto vedere chi non lo è vuole una cosa già realizzata da me ce li avete tra tutte quante che io vi ho presentato condizioni non ci ne sono non voglio voglio perché è un regalo non è un contesto non è un concorso non è niente non ci sono condizioni anche se fosse anche se dovrà fare un contesto qualcos'altro condizioni non ce ne saranno perché non mi piacciono e allora è tutto la vostra scelta scegliete voi se volete vi volete iscrivere a mettere in piace perché giusto così se vi piace quello che ho realiso come parlo come tutto vi iscrivete se non questo è tutto io spero che partecipate e partecipate tanti proprio in tantissimi e vinceranno due di voi se fosse che ce ne siete in tantissimi allora farò tre vincitori io vi ringrazio a tutti di aver guardato in video e a presto grazie ciao ciao ciao